oh ciao non ti avevo visto arrivare e nemmeno sentito cosa hai? cosa è successo? capisco hai fatto troppo tardi ieri sera? stamattina al lavoro è stato duro? ok io stavo sistemando un po' qui guarda facciamo una cosa lascio stare tutto e mi prendo un po' cura di te ok? certo non preoccuparti mi prendo cura di te e ti farò passare questo brutto mal di testa ok? arrivo subito mi dispiace davvero tanto allora facciamo una cosa adesso ti tolgo tutto questo make up dal viso ok? ti faccio un bel massaggio alla testa e ti farò rilassare in modo che potrai andare a dormire con la testa un po' più leggera mi dispiace davvero tanto però la prossima volta cerca di andare a letto prima ok allora facciamo così iniziamo subito passiamo un dischetto struccante senti detergente senti termini senti termini senti iniziamo subito senti persi però non dispiacerti sistemerò dopo il tuo mal di testa è molto 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 importante per me voglio che tu stia bene sempre certo se posso prendermi cura di te lo faccio molto molto volentieri andiamo a mettere questa pellina andiamo a mettere bene si adesso il tuo viso è molto molto più pulito e anche gli occhi così si sentiranno anche meno faticati e un po' più rinfrescati cosa ne pensi? ho ragione ok quando voglio metterti già conosci il siero ecco un'altra goccia adesso devi soltanto chiudere gli occhi rilassarti rilassarti va un po' meglio dai sono felice di poterti aiutare ma certo il viso più pulito è già 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 un passo avanti un passo avanti verso un sonno più rilassato allora andiamo a mettere un po' di crema vado vado a farti un bel massaggio ti coccolo un pochino ti coccolo un pochino e si sai che non riesco a vederti così tu di morale che non 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 No, 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 no. Non ti preoccupare, guarda davvero, a me fa soltanto piacere, sta riempiendo le mani di crema. Provare un massaggio ancora più dolce. Un po' sulle tempie. 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 ok, adesso facciamo qualche grattino grattino, grattino, grattino intorno agli occhi intorno agli occhi naso bocca bocca ok, rilassati 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 non preoccuparti di nulla chiude gli occhi chiude gli occhi rilassati abbassa un po' le luci così così sarai ancora più rilassati non mi piace 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 buroguile lasciati andare, lasciati andare, vado a un sonno, un sonno, un sonno dolce e rilassante il tumore mattina ti sveglierai con la testa più libera, riposata e molto, molto più rilassata ti auguro una dolcissima buonanotte, spero che ti abbia fatto passare il mal di testa e se il video ti è piaciuto non dimenticarti di iscriverti al canale, attivare la campanellina e se ti va, lasciare un bel pollice in su buonanotte